Allora, stiamo uscendo da San Siro, un risultato abbastanza acquisito contro un Torino modestissimo, a me parevano più dei vitelli che dei tori, certo risultato sicuramente messo in cascina grazie all'espulsione del Granata nel primo tempo, poi tre capolavori di Turam che ci hanno consentito di prendere questi tre punti fondamentali per dare la caccia al Napoli di Conte. Una bella serata e un applauso naturalmente a chi si è portato a casa l'Hattrick, come dicono i tedeschi, cioè la tripletta e anche il pallone della gara, benissimo Cialanogo, veramente il migliore in campo. Direi che tutta la squadra ha girato bene, anche nel secondo tempo il cambio, secondo me, di Pavard che ha sostituito Bisse che è stato azzeccato da Simoncello, c'è stata più pressione e più palla in profondità. Allora, adesso ci aspetta la pausa per poi arrivare, dopo la sosta delle nazionali, a dare la caccia a Lukaku e Conte. Una buona serata e Fozza Inda!